Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono la ginnasta del CSP ed è arrivato un pacco per me Da chi è arrivato un pacco per te? Che bello! Che cos'è? Sono curiosa Da Edwin Macalello Grazie Sì, cosa? Vuoi prenderlo? Che carino Non sgigottare, ce l'ho fatta Ma mandateci anche pacchi di cibo È un profumo Ce la fai, ce la fai, ce la fai Che bello, vabbè, leggi il titolo Anima nera Luxury C'è anche Eau de Parfum Vabbè Che bello, poi Magari non c'è dentro il profumo E si hanno impacchettato ancora dopo Eh, ma è arrivato un pacco per la Eni Parlate come una rosa, parlate mediante il vostro profumo Un profumo Non lo so Ah, sì Diciamo se è buono adesso Oh, ce l'ho fatta davvero Ma più bella la scatoria Non ho parole È buono Però l'ho già sentito Grazie E poi? E questo Ce la puoi fare? Non ho fatto la bigliettina Volevo vedere se ce l'ha scritto tutto o no Che buono Si sente fino a qua? Buono Io non lo so Sono bellissimi Belli Orecchini Gira di qui, fa vedere Orecchini che collanina Che belli Mi hai messo fuori fuoco Grazie Belli Sì, sono molto belli Grazie Aspettiamo anche pacchi di cibo Sì, ci sono le specialità di ogni cosa Tivo dalla Sicilia, dalla Calabria 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 con due B Campania anche Sardegna 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 Siamo arrivati alla fine di questo video Spero che vi sia piaciuto Piemonte Toscana Liburia 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 E le focacce Niente, il pesto Il pesto no Il pesto no La Puglia La Puglia La Puglia Io Campania, Sicilia e Sardegna Anche Lazio in realtà E la Puglia No ragazzi Il nostro paese è troppo bello per scegliere E sicuro una Va bene Se non l'avete ancora no L'ho già detto Ricordate di attivare la campanella Per attivare i video Ce la possiamo fare Ci vediamo al prossimo video Adios